Resterà Arezzo una sede di direzione territoriale e perciò con tutte le professionalità per quanto riguarda la direzione territoriale, ma ci saranno su questo territorio altre attività anche di gruppo che verranno dislocate su Arezzo proprio per mantenere l'attività e le attività su questo territorio. Ribadisce il legame con Arezzo il presidente di Banca Tirrenica e consigliere di gestione di UbiBanca Osvaldo Ranica nella sua prima visita ad Arezzo dopo l'acquisizione di Nuova Banca Etruglia. La prima novità è che dopo 15 anni Oro Italia Trading andrà in liquidazione, fin qui l'unico banco metallo italiano di proprietà di un istituto bancario, anche se l'oro rimarrà centrale nell'attività futura di Ubi. D'altronde è una società che non rientra nel nostro bacino di interesse, cioè fa un'attività che non ci riguarda sostanzialmente. Non siamo né capaci né così bravi per gestire questo tipo di attività di compravendita oro, perciò lasciamo che lo facciano altri. Poi invece noi perseguiremo e continueremo nell'attività dell'oro perché quella la riteniamo un'attività assolutamente fondamentale per questo territorio. Ha citato l'amministratore regato dei numeri che sono formidabili, cioè il 29% dell'esportazione sull'oro parte da Arezzo, perciò non possiamo noi permetterci neanche di mettere in discussione questo tipo di attività. Anzi, lo ribadisco qui, cercheremo di estenderlo sui territori dove non abbiamo questa attività ma siamo fortemente presenti. Ranica nell'incontro a Ghetino ha anche confermato il dato dei 1.300 esuberi tra i dipendenti delle banche acquisite. Vorremmo arrivare alla chiusura di Banca Tirrenica, per dargli il nome ultimo, con un dato significativamente più positivo, visto anche i parziali che sono stati presentati proprio in questi giorni.